allora perché non parlo tanto di tecnica perché dopo la jacquadre ho riguardato i miei video e li ho trovati noiosissimi c'è che proprio sbadigliavo mentre guardavo e raccontavo sempre le stesse cose dello shift del vento che è aumentato un po che non è coerente con i grib ci mancava soltanto mettessi a fa così con le mani ed era il dopo va anche io e quindi ho detto adesso si cambia registro nel van de glood vi parlo di altre cose così mi distraggo un po e e penso anche ad altro parlo di altro e poi la regata se ci tenete proprio tutta da un punto di vista tecnico vi prometto che all'arrivo per adesso però è domenica parliamo anche di altre cose grazie a tutti